volevo diciamo prenderla da lontano intanto dicendo che mi fa molto piacere essere in questo nuovo festival radici curato appunto col circolo da giuseppe culicchia perché ho visto il programma e devo dire che le occasioni anche di pareri diversi di prospettive lontane insomma no rappresenta anche una dialettica affascinante che sarebbe piaciuta almeno nelle intenzioni poi negli esiti non possiamo dirlo a uno come Pasolini sempre eviteremo per tutto il resto della chiacchierata di sovrainterpretare o di fare quel gioco che tra l'altro comincerò a a polverizzare e a rendere impraticabile del Pasolini avrebbe detto che cosa avrebbe detto Pasolini questo poi lo teniamo là ma volevo anche perché veramente la prima occasione torno a Torino in realtà a distanza di una settimana dal sempre qui al circolo ho presentato l'ultimo romanzo che è uscito mio per Feltrinelli un mese poco più fa però la prima volta che vengo a Torino ahimè senza che ci sia più in questa città una persona a me molto cara che era Ernesto Ferrero quindi volevo diciamo così dargli un pensiero se c'è stato come dire un maestro gentile generoso anche proprio io ho avuto un rapporto come tanti ovviamente anche lo stesso Giuseppe insomma negli anni del salone ma poi in generale ho avuto questa fortuna come altri di poter dialogare con una persona che era un protagonista insieme anche un testimone si metteva molto spesso più nei panni del testimone che del protagonista però aveva una passione per la letteratura che era incredibile e rara e quindi mi piace insomma poterlo ricordare aprendo questo questo strano incontro perché coincide un po' volutamente un po' casualmente proprio con l'anniversario della morte di Pasolini tra l'altro tra due anni sarà un altro anniversario dopo quello già abbastanza fertile di iniziative editoriali non solo dell'anno scorso cent'anni dalla nascita l'anno tra due anni saranno cinquanta addirittura già cinquant'anni dalla morte e bisogna partire da lì necessariamente cioè da quel 2 novembre del 1975 quando al mattino fu ritrovato il cadavere di Pasolini all'idroscalo di Ostia ma non in ragione del fatto che ancora oggi appunto a distanza di quasi mezzo secolo le circostanze in cui Pasolini è morto non sono ancora del tutto chiare questo naturalmente attiene diciamo anche a una dilatazione un'estenuazione del 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 processo che qualcuno ancora chiede di riaprire in parte è stato fatto ma come potete immaginare supporre non è mia competenza adesso entrare in questo certo lo sconcerto che ha prodotto la morte di Pasolini leggibile non solo nei volti di chi quella mattina ha ritrovato il corpo ma anche soprattutto forse mi viene da dire nei volti degli amici radunati qualche giorno dopo quel 2 novembre al funerale che fu in campo de fiori a roma e c'era un moravia particolarmente commosso particolarmente lacerato un moravia con cui Pasolini non aveva smesso di discutere fino all'ultimo praticamente anche su questo torneremo sulla dialettica anche oppositiva ispida aspra con gli amici a quel moravia batteva il pugno sul leggio si può ritrovare su youtube questo spezzone di quel giorno di pioggia credo umido e freddo un po' come potrebbe essere stasera Torino però era Roma e batteva sul pugno sul leggio ripetendo abbiamo perso prima di tutto un poeta e diceva che di poeti ne nascono tre o quattro in un secolo e Pasolini era uno di questi poi dice questa frase che è riportata anche in una delle ultime edizioni garzanti che raccoglie gli scritti civili aveva un'attenzione per i problemi sociali del suo paese per lo sviluppo di questo paese un'attenzione diciamolo pure patriottica che pochi hanno avuto perché partiremo da qua cioè da questa eterna riflessione imperitura quasi inesauribile riflessione su Pasolini e l'italia Pasolini come ragiona sugli italiani che cosa dice di noi degli italiani che cosa dice degli italiani nel tempo no e come li legge come legge anche la loro appunto come nel titolo di questo incontro la loro mutazione ma ancora un passaggio di lato rispetto a questa morte e a ciò che ha generato negli amici perché voglio leggervi invece tradotti in italiano perché nascono in dialetto e sono tra l'altro versi bellissimi versi di andrea zanzotto è una storia bella quella dell'amicizia tra Pasolini e zanzotto si incontravano come zanzotto stesso ha raccontato spesso in una stazioncina in mezzo ai campi tra sacile e conegliano erano due ragazzi e zanzotto gli si rivolge in dialetto in questa poesia che io non saprei leggere appunto in lingua e ve la devo leggere necessariamente in italiano con un'eccezione quando gli dice eri dappertutto gli dice eri dappertutto con la tua passione di tutto sto traducendo in italiano ma gli dice anche impetolante i versi che la traduzione sarebbe impiastricciato nei versi no questa cosa di un ventenne che era dappertutto con la sua passione di tutto impetolante i versi e dice sei rimasto là col tuo coraggio dove più delira l'italia ah scusami se ora non so se ora non so darti altro che questo borbottio da vecchio ormai è solo un povero sforzo tremore per ricucire riconnettere in qualche modo per un momento solo per salutarti quello che hanno fatto delle tue ossa e del tuo cuore quindi questo cadavere di pasolini è il cadavere che lo stesso zanzotto prova a ricucire queste membra che sono lacerate per l'appunto la donna che lo trova su quella spiaggia dell'idroscalo la mattina del 2 novembre 75 aveva scambiato il povero corpo di pasolini per un sacco demonnezza così si espresse diciamo alla polizia quando arrivò sul luogo e invece era un corpo era un corpo ridotto a una specie di cosa trasfigurata letteralmente l'espresso qualche settimana dopo la morte pubblicò addirittura le foto del tavolo autottico cosa che racconto semplicemente per dire come questo corpo era così prepotente sulla scena al punto da diventare prepotente anche nella morte e tutto quello che è stato detto dopo la morte di pasolini è condizionato evidentemente da quella morte violenta e forse anche dalla sua prefigurazione perché pasolini stesso ad autorizzare in qualche modo una sorta di profezia che si legge retroattivamente quando dice ostia o bombei non importa sarò un cadavere che si disfa sulla nella nell'alba diciamo davanti a qualche mare ostia o bombei quindi aveva individuato perfino aveva geolocalizzato in qualche misura la sua morte ma voglio partire dal corpo facendovi vedere una delle ultime apparizioni pubbliche di pasolini siamo nel 75 siamo a in francia quindi è un'intervista con lui risponde in italiano le domande sono in francese parla la televisione pubblica francese di quello che sarebbe stato appunto il suo ultimo film in realtà il film che apre la cosiddetta trilogia della morte dopo una sorta di abbiura della trilogia della vita che era composta da tre film famosissimi che erano film sulla vitalità film sulla seduzione film sulla gioia dei corpi almeno in apparenza comincia un percorso che è di contraddizione anche violenta radicale della vita con un tassello che chi ha avuto credo sotto occhio beh non può dimenticare è un film salò o le 120 giornate di sodo ma che io ho avuto occasione di rivedere a proposito visto che stanotte si potrà rivedere il sorpasso a mezzanotte ed è una cosa bella dicevamo no di andare al cinema in quell'orario così impervio ma rivedere sul grande schermo un film che magari abbiamo visto tante volte sullo schermo della televisione ecco io l'ho rivisto sul grande schermo salò e devo dire che è uno dei film più insostenibili credo della storia del cinema è un film che ti mette a dura prova che non solo ti provoca e questo sarebbe anche di tanto altro cinema ma ti rende impossibile digerire le immagini e probabilmente è talmente consapevole questo esercizio della provocazione che pasolini in questa intervista spiega le ragioni per cui continua in modo ostinato e sempre più estremista a provocare anzi chiarisce come sentirete tra un momento chi sono coloro che devono essere provocati mi sento superato a questo punto mi sento addirittura di abjurare della mia trilogia della vita cioè del Decameron fino alle 1909 io ho l'impression che mi sento addirittura di abjurare la trilogia della vita che ho fatto c'è dire il Decameron canterburi le milline di nuvi non. gli sceneggisti non gli sceneggisti non gli sceneggisti, effetti i produttori dei film porno è su che voi avete quando il tuo ultimo film va sortire il s'intitule «Li 120 giorni di Sodome» una volta di più il quale il scandale arriva? io penso che scandalizzare è un diritto essere scandalizzato è un piacere e il rifiuto di essere scandalizzato è un piacere moralista e il rifiuto di essere scandalizzato è un piacere moralista il sexo è politico? e la scatologia? la scatologia è anche politica il n'y a rien che sia politico il cannibalismo? in alcuni milioni c'è un fatto politico real in altri milioni c'è un fatto politico metaforico voi pensate che sia la migliore forma di se scendere di questi ennemi politici? vedete ho fatto proprio in questi giorni due propositi modesti a la faccia di svifo ho proposto di devorare i professori le professore e le dirigeante della television italiana sono comunque dei coriace noi abbiamo un buon estomac abbiamo un buon estomac a questo punto io devo rinunciare a questa spazia di haine perché in Italia tutti i ragazzi sono tornati dei borgioi e quando sono i borgioi che faccio di un borgioi che faccio di un borgioio che sta spazio non succede mai che sono dei borgioi a decrattato il borgioio sono le borgioio che sono le borgioio c'è l'evoluzione è la masse del pubblico è la masse del pubblico economicamente borghese e classi economicamente povera o proletari. Pourquoi ne militez-vous plus aujourd'hui? Comment l'entendez-vous? Vous n'êtes plus un militant politique. Je ne le suis plus que jamais. Je n'ai jamais été inscrit in un parti, je suis un indépendant de gauche marxiste, mais je continue à militer plus que jamais. Est-ce que vous avez parfois la nostalgie de l'époque où les gens vous insultaient dans la rue? On m'insulte encore aujourd'hui. Et ça vous cause un certain plaisir? Je ne le refuse pas, parce que je ne suis pas un moralisateur. Quelle est la qualification professionnelle que vous préférez? Poète, romancier, dialoguiste, scénariste, acteur, critique ou metteur en scène? Pourquoi avez-vous entouré le tournage des 120 jours de Sodome d'un tel mystère? Ce mystère, parce que toutes les œuvres doivent naître dans le mystère. J'ai essayé de la défendre plus que les autres, parce qu'il y avait des dangers immédiats plus lourds, mais rien de spécial. Qu'est-ce que vous appelez des dangers immédiats? L'apparition d'un moraliste qui refuserait le plaisir d'être scandalisé. Alors vous avez évoqué une république fantoche qui a été instaurée en Italie pendant la guerre. Ça évoque un peu le régime de Vichy en France pendant l'occupation? Oui, c'est exactement l'équivalent de la république de Vichy. Où était-elle installée? Dans l'Italie du Nord, et elle avait comme capitale Salo. Et le titre du film, c'est Salo. Et qui l'avait installée? Je crois Mussolini lui-même, français, poussé par les nazis. Vous pensez que ça a été l'époque de la grande décadence? Ça a été la décadence du moment hitlérien. Mais sûrement pas du grand capitalisme occidental. Alors on sait que dans ce film, une centaine de jeunes gens et de jeunes filles sont soumises à un traitement particulièrement cruel et violent. Supplices et puis aussi ces outrages dont on prétend toujours qu'ils sont les derniers. Comment avez-vous recruté ces cent jeunes gens et jeunes filles? En vérité, j'ai suivi les nombres magiques de Sade. Le nombre quatre. Et les victimes sont en tout une vingtaine, non une centaine. Pour les choisir, comme pour les autres films, j'ai rencontré des milliers de gens et j'ai choisi celles qui me semblent être les meilleurs. Ce sont des acteurs masochistes? Si je les ai choisi, ça veut dire qu'ils le sont. Intervista che mette un po' a disagio, no? Intanto si coglie il disagio di Pasolini stesso. Se uno volesse, come dire, studiare un po' la mimica, l'espressione facciale, forse anche un po' esagerando, legge, no? In quel sorriso un po' ghignante, un po' beffardo, comunque un segno di imbarazzo. Un segno di imbarazzo non tanto per le domande, quanto per il tema generale, diciamo, di fronte al quale deve esporsi Pasolini. La radicalità di una provocazione. Quel film, non so quanti in sala l'hanno visto o hanno provato a vederlo, è un film che, come dicevo, è indigeribile, indigesto, perché mette di fronte qualcosa che oggi sarebbe considerato ben oltre i limiti del passabile cinematograficamente. La coprofagia, per esempio. Delle forme di masochismo estremo e, in generale, tutto quello che in qualche modo diventa violenza esercitata sui corpi ed esibita in quanto violenza. Dentro quel sistema narrativo dell'ultimo film di Pasolini c'è naturalmente una gigantesca metafora, quella appunto di un capitalismo o di un sistema produttivo, mercantile, politico insieme, che coincidono, che costringe, scusate l'espressione, ma questa è quella che Pasolini usa nelle sue riflessioni intorno al film, a mangiare merda, ci costringe a mangiare merda. E nel momento in cui questo diventa non più solo metafora, ma si incarna nelle scene, è appunto porta, diciamo, al parossismo, così, la messa in scena di qualcosa che sembra surreale che nello spazio della narrazione diventa reale. È interessante il fatto che questi giorni, i giorni stessi in cui questa intervista viene svolta, sono i giorni in cui Pasolini scrive alcuni tra gli articoli più accesi sulle pagine del Corriere della Sera, sono quei mesi di una collaborazione molto curiosa, che vale la pena ricostruire, che qualcuno di voi sicuramente magari ricorderà anche proprio per esserci stato, voluta dall'allora direttore del Corriere della Sera, Piero Ottone. Il Corriere usciva da una stagione molto turbolenta. Come alcuni di voi sapranno, all'inizio degli anni Settanta, il Corriere della Sera, il grande giornale appunto della borghesia, il maggiore giornale italiano oggettivamente, che stava già per compiere un secolo, era stato coinvolto, diciamo così, da una sorta di onda molto scivolosa da un punto di vista proprio della tenuta complessiva, non tanto della linea politica, quanto qualche scoria era arrivata, diciamo così, a opacizzare la testata per legami con la P2, con certe, diciamo così, distorsioni delle comunità e chiamiamole etico-politiche, ovviamente molto tra virgolette. Ma il Corriere ha bisogno, tra l'altro, di rimettersi in asse anche perché perde in quei primi anni Settanta firme come Montanelli e quelli che seguono Montanelli, tra l'altro nella fondazione del giornale. L'intuizione di Piero Ottone di portare nel cuore del giornale della borghesia l'antiborghese per eccellenze. Vorrei farvi vedere adesso con l'aiuto della persona che ci assiste sul fronte tecnico che cosa significava quella mattina, non so, una mattina del settantaquattro, aprire il Corriere della Sera e leggere questa rubrica intitolata Tribuna Aperta, anche un po' beffardamente, Tribuna Aperta, con la firma appunto di Pierpaolo Pasolini. È abbastanza impressionante perché, tra l'altro, il titolo redazionale degli italiani non sono più quelli, già la dice lunga rispetto appunto a quella che Pasolini coglieva come mutazione antropologica. Andiamo avanti perché voglio farvi vedere anche una prima pagina del Corriere. Ecco, questa è la prima pagina del 24 giugno del settantaquattro, costava centocinquanta lire, la politica delle bombe, l'editoriale, le relazioni Lamalfa, il Consiglio Nazionale del Partito, questo era il Corriere della Sera del lunedì, la testata è la stessa, gli azzurri sconfitti, quella storia che Arpino racconta in un libro bellissimo che si chiama Azzurro Tenebra e il Potere Senza Volto, in prima pagina. Che cos'è la cultura di una nazione? Si chiede Pasolini. Dentro poi, credo, c'è l'ultimo segmento che ci fa vedere l'ingrandimento del pezzo, il Potere Senza Volto. Tra l'altro, questi sono i titoli di redazione, poi vengono ricomposti, riassemblati nel famosissimo libro Scritti Corsari e uno dei due diventa l'articolo delle lucciole, diciamo, e l'altro quello appunto sulla mutazione antropologica degli italiani. Lo sforzo che dobbiamo fare da qua è provare, anche chi c'era, credo possa ormai a distanza di mezzo secolo fare uno sforzo, quello di immedesimarsi nel lettore tipico del Corriere della Sera, sempre che esista un lettore tipico che apre il giornale e su un giornale su cui trovava Buzzati e Montanelli fino a qualche tempo prima trova Pierpaolo Pasolini e comincia a leggere degli articoli che sono blasfemi rispetto appunto anche un po' all'ortodossia, all'ecumenismo politico di un giornale che è sempre stato un giornale anche istituzionale, anche nobilmente istituzionale naturalmente. La provocazione è già quella di Ottone, quella di dare a Pasolini uno spazio che appunto chiama Tribuna Aperta nel quale Pasolini interpreta l'intemperante, la figura in qualche modo dell'anarchico senza pistole sul giornale della borghesia, dichiarandosi continuamente antiborghese e questa dichiarazione, questa istanza antiborghese è una istanza che Pasolini comincia a coltivare in questi termini proprio di nominazione già nei tardi anni Sessanta. Cioè si definisce antiborghese come se l'unico partito a cui si può iscrivere può essere iscritto è proprio questo ed è un partito a cui forse è iscritto lui solo tanto che siamo nel 1968 sul settimanale tempo Pasolini parla della sua solitudine di cittadino. Io dunque dalla mia solitudine di cittadino cercherò di analizzare questa borghesia come male dovunque essa si trovi cioè ormai dappertutto è un modo vivace per dire che il sistema borghese è in grado di assorbire ogni contraddizione anzi crea esso stesso le contraddizioni come dice Lukacs per sopravvivere superandosi sintomo sicuro della presenza del male borghese è appunto il terrorismo moralistico ideologico anche nelle sue forme ingenue siamo nell'agosto del 1968 e c'è un Pasolini che si racconta come il contrario l'incarnazione del contrario del Buddha anche questa è un'immagine interessante se Buddha insegna il distacco dalle cose Pasolini per statuto sarà colui che non riesce a distaccarsi dalle cose se il distacco dalle cose equivale al disimpegno per lui il disimpegno è impossibile ho un bisogno di contraddirmi dice lui addirittura che è di giustificazione che è connaturato c'è un verso bellissimo nelle ceneri di Gramsci lo scandalo del contraddirmi dell'essere con me e contro di me e nel giro di poche righe si contraddice dicendo se fosse un altro lo stato delle cose io mi spingerei a essere disimpegnato e disancorato dalla realtà ma non posso come se ci fosse un imperativo davvero categorico che deve a cui deve in qualche modo rispondere e deve farlo altro avverbio cinicamente perché cinicamente sfrutterà il sistema di comunicazione espressione del capitalismo sono tutti termini che naturalmente hanno una certa risonanza di tempi remoti gli anni 70 ma così Pasolini scrive cinicamente si riferisce al mio comportamento pubblico non personale è un'affermazione ideologica io approfitto delle strutture capitalistiche per esprimermi e lo faccio perciò cinicamente verso le figure pubbliche dei miei datori di lavoro non verso la loro identità personale un'altra cosa scrive ancora nel 68 che vorrei dire come prefazione a questa mia serie di interventi è la seguente spesso parlerò con violenza contro la borghesia anzi sarà questo il tema centrale del mio discorso settimanale e so benissimo che il lettore resterà sconcertato si dice così da questa mia furia ebbene la cosa sarà chiara quando avrò specificato che io per borghesia non intendo una classe sociale quanto una vera e propria malattia una malattia molto contagiosa tanto è vero che essa ha contagiato quasi tutti coloro che la combattono dagli operai settentrionali agli operai immigrati dal sud ai borghesi all'opposizione ai soli come sono io il borghese è un vampiro che non sta in pace finché non morde sul collo la sua vittima per il puro semplice e naturale gusto di vederla diventare pallida triste brutta devitalizzata contorta corrotta inquieta piena di senso e di colpa calcolatrice aggressiva terroristica come lui questo è Pasolini 1968 tale quale qualche anno dopo sul Corriere della Sera appunto in seno diciamo alla borghesia dice queste cose sulla borghesia è un cortocircuito se volete anche una specie di paradosso in termini l'antiborghese per eccellenza che sputa sulla borghesia che cerca di provocare la borghesia e non solo l'elite intellettuale ma una sorta di massa borghesizzata che per lui equivaleva effettivamente a una massa malata in questo legge la mutazione antropologica vorrei però fare ancora un passo dentro quello sconcerto che lui stesso sa di provocare perché credo di non essere il solo ad avere l'impressione che a 50 anni quasi dalla morte di Pasolini si è visto perfino nel corso del centenario che è stato naturalmente un profluio di pubblicazioni di ripensamenti complessivi dell'opera di mostre su mostre tutte assolutamente nobili e qualche volta anche persuasive ma in fondo un po' dentro lo schema del Pasolini icona laica ho fatto un esperimento questo qualche mese fa proprio in il rapporto al centenario ho provato a vedere quanto fosse ricorsivo l'hashtag cioè diciamo quella marcatura che si usa nei social che identifica diciamo così una sorta di trend di discussione l'hashtag Pasolini quanto fosse ricorrente quanto fosse esuberante e mi sono reso conto che è impressionante la quantità di volte in cui ogni giorno ho fatto per una campionatura abbastanza cospicua ogni giorno Pasolini viene evocato da tweet a proposito delle più diverse questioni pubbliche di fronte a notizie di cronaca nera di fronte a questioni che riguardano la vita politica del paese c'è sempre qualcuno che scrive in un tweet ci vorrebbe hashtag Pasolini ci manca hashtag Pasolini è come se effettivamente una sorta di nostalgia dell'intellettuale pubblico Pasolini fosse moltiplicata per una serie di questioni che ovviamente sono tutte fuori asse rispetto all'effettiva congruenza diciamo col mondo intellettuale e politico di Pasolini ma dobbiamo interrogarla questa nostalgia perché viene manifestata in modo così aperto perché abbiamo nostalgia di Pasolini perché a nostalgia di Pasolini soprattutto mi viene da dire chi non l'ha conosciuto chi è venuto dopo Pasolini io vivo in una città Roma che Pasolini ovviamente ha raccontato molto in lungo e largo sia nel cinema che nella letteratura mi posso soffermare poco sul Pasolini letterato ma avrei voglia in qualche modo di farlo per tante ragioni magari aggiungo tra un momento qualcosa qua naturalmente l'intellettuale pubblico per quanto poi la definizione che lui preferiva era quella di scrittore perché si pensava scrittore per immagini al cinema forse il mettero che dicono i francesi poteva somigliare di più alla sua professione nel campo cinematografico che è la parola regista comunque fatto è che quel Pasolini che oggi io vedo circolare nell'iconografia anche romana è un Pasolini che viene effigiato addirittura in veste di supereroe se vi capitasse un giorno di andare in un quartiere molto intellettuale multietnico un po' come San Salvario a Torino che è il Pigneto a Roma voi trovereste in un bar che Pasolini pare frequentasse il bar Necci l'effigie di Pasolini che campeggia su una parete ed è vestito da supereroe da Batman con la scritta io so che è l'inizio di uno dei suoi più famosi articoli ma quel supereroe vagheggiato diciamo quel supereroe rimpianto è un supereroe che se fosse attivo nel presente produrrebbe uno sconcerto radicale in chi lo rimpiange in tutti noi che lo rimpiangiamo che potremmo rimpiangerlo detto in altri termini quello che noi chiediamo a Pasolini di essere oggi o di reincarnarsi in qualche modo è la dimensione gli chiediamo la dimensione di assumere la dimensione dell'intellettuale pubblico angagé quello che appunto non ha paura di dire ma poi proviamo a pensare che cosa significava essere messi di fronte al dire di Pasolini e qua voglio darvi proprio una campionatura per rinfrescare la memoria a chi c'era e soprattutto per produrla in chi non c'era e pensa Pasolini però manca all'Italia un intellettuale come Pasolini benissimo Pasolini che scriveva sul Corriere della Sera tre quattro articoli di fila contro l'aborto in un momento in cui la battaglia della sinistra era quella per il diritto all'aborto sacrosanta battaglia che ha determinato poi tardivamente in Italia il diritto all'interruzione di gravidanza ma nel momento in cui questa battaglia era ancora in nuce questa battaglia era una battaglia combattuta sostanzialmente dalle femministe e dai radicali Pasolini scrive degli articoli violentissimi contro l'aborto quindi quello che ci si aspetterebbe proviamo a fare il gioco del se ci fossi stato no apro il giornale Pasolini è l'araldo in qualche modo appunto della coscienza impegnata mi aspetto da sinistra che Pasolini sia sodale rispetto a un certo tipo di battaglia di apertura laica di modernizzazione del paese in termini di diritti sociali e civili e Pasolini scrive furibondo contro l'aborto usando termini che sono più spirituali di quelli che probabilmente userebbe il più clericale dei clericali perché clericale non significa necessariamente spirituale e Pasolini lo sapeva bene e dice che l'aborto è un omicidio e dice che la vita è sacra e il fatto che dica che la vita è sacra come lo direbbe un pontefice naturalmente scuote la coscienza delle femministe e anche dei radicali quando finalmente in Italia si può divorziare siamo qualche anno indietro rispetto poi finalmente alla sanzione del diritto all'interruzione di gravidanza e in un modo quasi plebiscitario una maggioranza molto larga quella del referendum abrogativo che poi ha portato diciamo all'istituzione alla tenuta dell'istituzione del divorzio diciamo anche in tutti questi decenni Pasolini scrive un articolo non tanto per dire che lui è contro il divorzio ma che gli italiani hanno votato per il divorzio perché si sono imborghesiti perché hanno perso un rapporto con la tradizione hanno perso un rapporto con le radici e questo ti fa saltare sulla sedia mi è capitato di dialogare molte volte anche pubblicamente con Dacia Maraini e le ho chiesto ma tu eri un'amica di Pasolini sapete bene tutta la leggenda l'amico di Moravia l'amico di Dacia Maraini di Maria Callas hanno fatto viaggi in tutto il mondo ha scritto un bellissimo libro Dacia su Pasolini che si chiama caro Pierpaolo che è anche pieno di tenerezza dico ma tu da femminista come potevi accettare che Pasolini fosse contro il divorzio contro l'aborto e lei dice perché Pasolini era fondamentalmente irrazionale e in qualche modo questa irrazionalità innerva tutto il suo scrivere il suo pensare pensa mi dice Maraini e l'ha detto anche pubblicamente qualunque persona gli si è presentata alla porta qualunque omosessuale gli si sia presentata alla porta per chiedergli di sottoscrivere un appello per i diritti degli omosessuali è stato praticamente rimandato indietro perché Pasolini pensava che nel momento stesso in cui la rivendicazione di un diritto diventa comunitaria quello in qualche modo aspira quella trasformazione a un'assunzione di potere di poteri capite che è fondamentalmente irrazionale se volete da un certo punto di vista perfino inaccettabile il fatto di negare la possibilità che so a una minoranza oggi siamo molto sensibili ovviamente molto ipersensibili ai temi delle minoranze a una minoranza la sua rivendicazione collettiva la sua rivendicazione collettiva di diritti ma Pasolini funzionava così funzionava secondo una specie di schema che sovvertiva ogni schema potrei farvi e non lo farò perché non abbiamo tutto questo tempo degli esempi anche di cose minime Pasolini che scrive su Torino volete avere un piccolo saggio di quello che dice su Torino ecco dice che è una città che avrebbe bisogno appunto in fondo di una specie di spinta anarchica ma realmente anarchica perché è troppo omogenea troppo uniforme troppo stantia per certi versi dice ci ho vissuto poco ma mi è bastato per capire che è una città che a un certo punto è sotto scacco è oppressa e quindi non è simpatico nei confronti di Torino ma non è simpatico nemmeno nei confronti del Natale dicendo nel 1969 che è una festa stupida è una festa che andrebbe abolita e anzi dice nell'inizio di un articolo sul Natale che poi riprende l'anno dopo quindi anche con una certa ossessività fuggo dal Natale ogni anno perché credo che sia una festa irreligiosa e stupida volete sapere cosa diceva su un programma che oggi rimpiangiamo dicendo quant'era bella la televisione degli anni 50 e 60 canzonissima mi fa orrore scrive Pasolini anche soltanto scrivere il nome di questa trasmissione canzonissima allora c'è sempre un iperbole un'esagerazione una specie di provocazione costante che fa sì che dove tutti aspetti che Pasolini dica qualcosa in una certa direzione lui va completamente nella direzione opposta in qualche misura non è soltanto la come dire l'atteggiamento la tempra del bastian contrario ma è proprio di chi vede nella contraddizione o scandalo del contraddirmi l'unica possibilità di polverizzare ogni tentazione del conformismo quando e questo è veramente diventato un proverbio quindi voglio soltanto sfiorarla perché purtroppo poi a volte si cristallizzano anche delle vulgate per esempio e la tocchiamo soltanto di passaggio la famosa poesia in cui Pasolini dopo uno scontro tra studenti e polizia a Valle Giulia a Roma nel 68 il PC ai giovani poesia di Pasolini in cui dice io stavo dalla parte dei poliziotti gli studenti si aspettavano che lui naturalmente incoraggiasse le istanze studentesche e lui dice no io sono dalla parte dei poliziotti non mi fermo su questo perché credo che tutti abbiate nella testa le ragioni di Pasolini le riassumo magari per i più giovani la sostanza era gli studenti che protestano sono figli di papà sono borghesi se c'è un'innocenza questa sta nella classe proletaria e quella classe proletaria è rappresentata dai poliziotti e non dagli studenti dicotomia se volete un po' rozza aspra certo comunque in qualche misura sconcertante rispetto a chi si aspettava un sostegno da Pasolini e invece non l'ha avuto ma io voglio portarvi ancora più avanti perché c'è un articolo di Pasolini terribile sulle maschere uso le sue parole ripugnanti dei giovani contestatori allora uno che dice è stato un contestatore si definiva indipendente di sinistra scriveva a proposito dei contestatori famosissimo un suo articolo tutto giocato solo sul fatto che portavano in larga parte i capelli lunghi quelli che alla fine degli anni 60 venivano chiamati i capelloni Pasolini non tollera quei capelli lunghi c'è qualcosa proprio c'è un'idiosincrasia che tu senti viscerale proprio anche soltanto per i capelli lunghi ma arriva a scrivere il 7 gennaio del 73 sul giornale della borghesia concludo amaramente le maschere ripugnanti che i giovani si mettono sulla faccia rendendosi laidi come le vecchie puttane di una ingiusta iconografia ricreano oggettivamente sulle loro fisionomie ciò che essi solo verbalmente hanno condannato per sempre sono saltate fuori le vecchie facce da preti da giudici da ufficiali da anarchici fasulli da impiegati buffoni da zecca garbugli da don ferrante da mercenari da imbroglioni da ben pensanti teppisti cioè la condanna radicale indiscriminata che essi hanno pronunciato contro i loro padri che sono la storia in evoluzione la cultura precedente alzando contro di essi una barriera insormontabile ha finito con l'isolarli impedendo loro con i loro padri un rapporto dialettico questo scriveva Pasolini nel 73 sui contestatori sulle facce ripugnanti dei contestatori ma potremmo andare avanti a lungo perché potremmo trovare perfino sempre stando nello spirito diciamo così della televisione d'antan che qualcuno rimpiange con una televisione garbata felice quella che te che te che te diciamo ripropone come modello di televisione in una nostalgia infinita che poi produce questo paese diciamo una nostalgia per tutto ecco su Carosello Pasolini si esprime anche su Carosello che appunto oggi è considerato un'icona di stile pubblicitario Pasolini usa questa espressione su Carosello queste espressioni su Carosello scusate che devo ritrovare il punto che sta qua Carosello onnipotente in tutto il suonitore la sua assolutezza la sua perentorietà il suo nuovo tipo di vita che gli italiani devono vivere e non mi si dirà che si tratta di un tipo di vita in cui la religione conti qualcosa è la propaganda televisiva del nuovo modo di vita edonistico che ha determinato il trionfo del no al referendum non c'è niente infatti di meno idealistico e religioso del mondo televisivo questo è Pasolini cioè è continuamente votato a una sorta di furia iconoclasta per cui appena coglie la spia del conformismo cerca effettivamente di giocare in contropiede e di polverizzare ogni possibilità di conformismo in questo senso il Pasolini che noi rimpiangiamo sarebbe un Pasolini che ci contraddice continuamente che polemizza con noi come polemizzava con un suo compagno di strada Calvino che spesso gli viene contrapposto anche a ragione ma una delle cose più affascinanti è ricostruire tutti i momenti in cui Calvino e Pasolini hanno polemizzato pubblicamente pensate che uno degli ultimi articoli scritti da Pasolini proprio pochi giorni prima di morire era il 30 ottobre del 1975 è un pezzo che risponde a Calvino che aveva riflettuto sul delitto del Circeo lo dico sempre per i più giovani è stata una notizia diciamo che aveva riempito le pagine dei giornali e naturalmente i telegiornali che aveva a che fare con una vera e propria carneficina di violenza sessuale violenza fisica di tutti i tipi che aveva poi coinvolto in particolare due ragazze chiuse in un bagagliaio da ragazzi della cosiddetta Roma Bene è stato raccontato da Albinati in un ponderoso volume che si chiama La Scuola Cattolica che a sua volta è diventato un film la povera Donatella Colasanti una delle due ragazze fu ritrovata viva per quanto stordita e quasi annichilita dentro il bagagliaio di un'auto dove in realtà accanto aveva la sua amica morta e dopo lunghe ore di stupro e di sevizie di fronte al fatto che questi ragazzi della Roma Bene erano ragazzi di una scuola cattolica per l'appunto il San Leone Magno a Roma nel quartiere Trieste Calvino parla sul Corriere della Sera di una violenza in qualche modo del neofascismo di un certo benpensantismo fascista e Pasolini si indigna e si rivolge così al suo collega tu dici i responsabili della carneficina del Circeo sono in molti e si comportano come se quello che hanno fatto fosse perfettamente naturale come se avessero dietro di loro un ambiente una mentalità che li comprende e li ammira ma perché questo? tu dici nella Roma di oggi quello che sgomenta è che questi esercizi mostruosi avvengono nel clima della permissività assoluta ma perché questo? e va avanti e gli contesta ogni frase fino al punto da dirgli adesso io pretendo che tu mi risponda pretendo che tu mi risponda non farà in tempo Calvino a rispondere a Pasolini vivo evidentemente ma quando parla della cancrena di alcuni strati della borghesia romana neofascista Calvino evidentemente agli occhi di Pasolini non coglie che c'è qualcosa di molto più largo e trasversale una sorta di trasformazione antropologica di mutazione antropologica degli italiani ora naturalmente non è che usciremo da questa sala diciamo facendoci un'idea delle ragioni e dei torti non credo che sia nemmeno il senso di questo tipo di conversazione no? se Pasolini avesse avuto ragione avesse ancora ragione a cogliere i segni di una trasformazione ma il punto e lo dice proprio in questo ultimo articolo rivolto a Calvino è che è cambiato il modo di produzione enorme quantità beni superflui funzione donistica ma la produzione non produce solo merce produce insieme rapporti sociali umanità il nuovo modo di produzione ha prodotto dunque una nuova umanità ossia una nuova cultura modificando antropologicamente l'uomo e nella fattispecie l'italiano tale nuova cultura ha distrutto cinicamente genocidio le culture precedenti da quella tradizionale borghese alle varie culture particolaristiche pluralistiche popolari ai modelli e ai valori distrutti essa sostituisce modelli e valori propri i figli della borghesia sono dunque privilegiati nel realizzarli si pongono come esempi a coloro che economicamente sono impotenti a farlo e vengono ridotti appunto a larvali e feroci imitatori di cui la loro natura vicaria da SS il fenomeno riguarda così l'intero paese e i perché ci sono e ben chiari chiarezza che certo lo ammetto non risulta da questa tabella che ho qui stilato come un telegramma ma tu dice a Calvino sai bene come documentarti se vuoi rispondermi discutere replicare cosa che finalmente pretendo che tu faccia è durissimo è durissimo ed è stato altrettanto duro quando Calvino gli rinfacciò perché questa è una sequenza di articoli che escono appunto su quel grande giornale in cui Pasolini insiste sulla mutazione antropologica Calvino gli fa un'obiezione che è l'obiezione che forse gli avremmo fatto o quantomeno lo dico un po' stupidamente ma per stare dentro il gioco dialettico gli avrei fatto anch'io e dunque scusami Pasolini che cosa stai rimpiangendo esattamente di quale rimpianto vivi che cosa ti manca quale Italia stai richiamando indietro e quindi gli dice sostanzialmente lo dice anche un po' grossolanamente Calvino a Pasolini siamo a un anno da questo ultimo pezzo un anno prima di questo ultimo pezzo gli dice tu rimpiangi l'italietta un'italietta che fondamentalmente era l'italietta dell'ordine l'italietta fascista la Pasolini perde come dire proprio la anche la parvenza della calma e risponde a Calvino dicendogli che è completamente fuori asse che anzi in qualche misura gli sta dicendo qualcosa di profondamente offensivo perché nel momento in cui gli dice che rimpiange l'italietta gli sta dicendo che rimpiange il fascismo e sa perfettamente Calvino che lui non può rimpiangere il fascismo perché dal fascismo è stato perseguitato perché dal fascismo dal fascismo ha ricevuto in qualche modo delle ferite umane non soltanto delle ferite fisiche e in questo senso quindi dice tu dici a me che io rimpiango l'italietta l'italietta fascista io rimpiango qualcos'altro so io che cosa rimpiango qua c'è un passaggio molto interessante di un articolo in cui oltre a rispondere a Calvino risponde al papà di Giuliano Ferrara scusate se lo evoco così ma si chiamava Maurizio Ferrara scriveva sull'unità e gli aveva fatto le stesse obiezioni che sostanzialmente gli aveva fatto Calvino l'italietta piccolo borghese fascista provinciale democristiana ai margini della storia tu dici che io rimpiango questo voi dite che io rimpiango questo ma è un umanesimo scolastico formale e volgare per quel che mi riguarda personalmente questa italietta è stata un paese di gendarmi che mi ha arrestato processato perseguitato tormentato linciato per quasi due decenni questo un giovane può non saperlo ma tu no caro Calvino sempre può darsi che io abbia avuto quel minimo di dignità che mi ha permesso di nascondere l'angoscia di chi per anni e anni si attendeva ogni giorno l'arrivo di una citazione del tribunale e aveva terrore di guardare nelle edicole per non leggere nei giornali atroci notizie scandalose sulla sua persona ma se tutto questo posso dimenticarlo io non devi però dimenticarlo tu allora a Maurizio Ferrara dice voi fate di me un nostalgico l'immagine che mi state contrabbandando che state contrabbandando di me è quella di uno votato al rimpianto di un'Italia che non esiste più l'Italia delle lucciole perché quell'articolo è diventato proverbiale perché Pasolini dice l'Italia prima dell'industrializzazione l'Italia contadina è scomparsa e con essa sono scomparse anche le lucciole il cui bagliore non è più percepibile nelle città cosa che forse è smentibile a tutt'oggi da qualche parte le lucciole brillano ancora non è vero che siano scomparse però capite che lui usa una gigantesca metafora di una trasformazione irreversibile come sono scomparse le lucciole sono scomparse dice delle facce oggi peccherebbe agli occhi scafati diciamo dell'intelligenza di l'ombrosismo perché a un certo punto Pasolini cosa che nessun intellettuale secondo me oggi sano e soprattutto preoccupato per la sua per la sua professione direbbe sano di mente intendo dire infatti Pasolini stesso dice io mi rivendico pure il diritto di essere folle e se pensate che sono l'ombrosiano vi dico che certe cose si riconoscono dalle facce i comportamenti in qualche modo attecchiscono al punto nella figura umana nella fisionomia che tu le facce le puoi studiare e le facce degli italiani io ve lo dico sto parafrasando ma non mi allontano molto dalla lettera le facce degli italiani sono cambiate non sono più le stesse dice una cosa anche abissale è un certo momento dice c'è stato un momento in questo paese in cui era possibile riconoscere se eri fascista o antifascista dai tratti somatici oggi sarebbe impiccato uno che parla in questi modi probabilmente impiccato nella gogna mediatica come fai a dire che si vede dalla faccia se uno è fascista o antifascista non era tanto diverso da quello che diceva uno scrittore per l'appunto considerato reazionario conservatore un conservatore buono giovanino Guareschi uscito dai radar dell'intelligenza però è stato uno degli scrittori più letti nell'Italia degli anni 50 l'autore lo dico sempre per i più giovani perché magari è familiare il nome del suo personaggio più noto di Don Camillo Don Camillo che poi è diventato anche col volto di famosi attori Fernandello e Gino Cervi anche una specie di long seller televisivo in fondo perché è ancora riproposto magari a tardanotte o in certe serate estive da rete 4 sostanzialmente quei film in bianco e nero in cui c'era quell'Italia in cui il parroco e il comunista della sezione del partito del piccolo borgo Brescello diciamo dove Guareschi inventa scusate il suo mondo piccolo lo chiamava proprio così ecco Peppone e Don Camillo sanno da quale parte stanno e e questa è una frase proprio di Guareschi basta un buongiorno per capire da che parte si sta non è tanto diverso da quello che dice Pasolini adesso invece dice Pasolini voi provate a cercare di riconoscere dalla faccia e stiamo parlando di Italia degli anni 70 i fascisti e gli antifascisti hanno la stessa faccia la stessa identica faccia nel momento in cui è scomparsa una differenza nel momento in cui si è sfarinato l'universo contadino in questa dittatura diciamo del capitalismo del consumismo del mercato i comportamenti hanno cambiato le facce e hanno cambiato i desideri li hanno in qualche modo resi identici e per le classi abbienti e per le classi popolari c'è un'altra cosa a cui c'è un'immagine soprattutto a cui sarebbe oggi pesantemente inchiodato per quello dico che è divertente leggere Pasolini immaginando la faccia che farebbe chi lo rimpiange perché non puoi rimpiangere lo dico scherzando ma nemmeno troppo uno che scrive questo una delle caratteristiche principali di questa uguaglianza dell'esprimersi vivendo oltre alla fossilizzazione del linguaggio verbale gli studenti parlano come libri stampati i ragazzi del popolo hanno perduto ogni inventività gergale è la tristezza l'allegria è sempre esagerata ostentata aggressiva offensiva la tristezza fisica di cui parla è profondamente neurotica essa dipende da una frustrazione sociale 11 luglio 74 ora che il modello sociale da realizzare non è più quello della propria classe ma imposto dal potere molti non sono appunto in grado di realizzarlo e ciò li umilia orrendamente il problema è l'esempio che fa dopo faccio un esempio Corriere della Sera sempre 11 luglio 74 una volta il fornarino come lo chiamano qui a Roma era sempre eternamente allegro un'allegria vera che gli sprizzava dagli occhi se ne andava in giro per le strade fischiettando e lanciando motti la sua vitalità era irresistibile era vestito molto più poveramente di adesso i calzoni erano rattoppati addirittura spesse volte la camicetta uno straccio però tutto ciò faceva parte di un modello che nella sua borgata aveva un valore un senso ed egli ne era fiero al mondo della ricchezza gli aveva da opporre un proprio mondo altrettanto valido giungeva nella casa del ricco con un riso naturaliter anarchico che screditava tutto benché egli fosse magari rispettoso non è la felicità che conta ecco questa persona questo ragazzo era allegro non è per la felicità che si fa la rivoluzione la condizione contadina o sottoproletaria sapeva esprimere nelle persone che la vivevano una certa felicità reale si può dire che i poveri erano felici lui sta dicendo questo senza nemmeno troppe perifrasi stava dicendo che una condizione di subalternità sociale economica prima ancora che sociale non escludeva la felicità anzi in qualche misura la incoraggiava l'alimentava una fierezza di classe del proprio statuto in qualche modo di classe che coincideva con una certa allegria esteriore esteriore nel senso dei tratti non esteriore nel senso della sostanza oggi questa felicità con lo sviluppo lo chiama sviluppo con la s maiuscola è andata perduta ciò significa che lo sviluppo non è in nessun modo rivoluzionario neanche quando è riformista qua Pasolini manifesta la sua natura che farebbe saltare sulla sedia chi lo rimpiange come icona di vogliamo usare una parola un po' pesante reazionario c'è una componente antiprogressista in Pasolini profondamente antiprogressista sente che il pericolo del progresso è questa metamorfosi irreversibile una sorta di e uso una parola tipica del lessico pasoliniano e del lessico di quegli anni ma Pasolini la impone anche da un punto di vista giornalistico di omologazione nel momento in cui la classe meno abbiente si omologa anche da un punto di vista della casacca alla classe più abbiente si imborgesisce nei comportamenti e nei desideri non tanto magari nelle possibilità pratiche questo in qualche modo le impedisce qualunque felicità non c'è più niente di rivoluzionario non c'è più nessuno slancio c'è solo una sorta di inerzia di condanna alla ripetizione e di frustrazione sociale perché non hai gli stessi mezzi della classe a cui aspiri ai cui modelli in qualche modo sei piegato non sto dando davvero sto cercando di essere il più neutro possibile non voglio aderire né contraddire voglio soltanto dire che se uno leggeva il Corriere della Sera dell'11 luglio del 74 trovava un Pasolini che ti diceva semplificando perché così hanno semplificato anche Maurizio Ferrara papà di Giuliano dopo vi dico perché insisto su questo punto e lo dico giocando ma nemmeno troppo e Calvino cosa gli avevano detto caro Pasolini tu rimpiangi un'Italia perduta un'Italia contadina un'Italia uso un'espressione dal cinema povera ma bella un'Italia ideale un'Italia che non può essere rimpianta perché rimpiangerla è il contrario del progressismo perché il progressismo da un punto di vista politico è ciò che consente a un uomo di redimersi di riscattarsi dalla classe sociale d'appartenenza e ascendere economicamente socialmente dunque culturalmente a un'altra classe sociale nel momento in cui però tu fai questo agli occhi di Pasolini letto però da Calvino e da Ferrara stai in qualche modo tradendoti tradendo la tua innocenza finisco ora ci sono degli adulti della mia età così abberranti da pensare che sia meglio la serietà con cui oggi il cascherino porta il suo pacco avvolto nella plastica con lunghi capelli e baffetti che l'allegria sciocca di una volta cioè abberrante pensare che sia meglio questa tristezza tragica che la sciocca allegria di una volta credono che preferirei la serietà al riso scusate che preferire la serietà al riso sia un modo virile di affrontare la vita la serietà la dignità sono orrendi doveri che si impone la piccola borghesia e i piccoli borghesi sono dunque felici di vedere anche i ragazzi del popolo seri e dignitosi non gli passa nemmeno per la testa il pensiero che questa è la vera degradazione che i ragazzi del popolo sono tristi perché hanno preso coscienza della propria inferiorità sociale visto che i loro valori e i loro modelli culturali sono stati distrutti è impressionante 11 luglio 74 ampliamento del bozzetto sulla rivoluzione antropologica in Italia i riferimenti appunto il titolo redazionale dell'articolo precedente era lettera aperta Italo Calvino Pasolini quello che rimpiango quando a Ferrara e a Calvino dice non rimpiango quello che dite che voi che dite voi che io rimpiango rimpiango quello che dico io che voglio dire io e comunque questo in qualche modo non deve rimpiangare non deve riguardarvi il mio rimpianto perché ho il diritto da poeta e dunque da folle di rimpiangere quello che voglio adesso ho cercato di riassumere in qualche misura non potete inchiodarmi a una dimensione emotiva perché questo è un discorso politico e infatti a un certo momento dice che quello che ha attecchito e che voi non vedete è un codice interclassista studente uguale operaio operaio del nord uguale operaio del sud almeno potenzialmente nell'ansiosa volontà di uniformarsi infine caro calvino vorrei farti notare una cosa non da moralista ma da analista nella tua affrettata risposta alle mie tesi ti è scappata una frase doppiamente infelice attenti qua eh si tratta della frase i giovani fascisti di oggi non li conosco e spero di non avere occasione di conoscerli ma uno certamente non avrai mai tale occasione anche perché se no lo scompartimento di un treno nella coda un negozio per strada in un salotto tu dovessi incontrare dei giovani fascisti non li riconosceresti ed è un problema facciale fisiognomico due e questa è la parte più importante augurarsi di non incontrare mai dei giovani fascisti vorrei farvi notare che sempre se rimpiangessimo Pasolini veramente e quindi dovremmo rimpiangere quello che sta per dirci in realtà noi stiamo rimpiangendo senza leggerlo uno che ci potrebbe in qualche misura incoraggiare a non incontrare i fascisti di oggi di ieri di sempre a dirci no ma guarda quello che ti devi augurare è di non incontrarli fascisti di non vederli fascisti no perché augurarsi di non incontrare mai dei fascisti è una bestemmia perché al contrario noi dovremmo fare di tutto per individuarli e per incontrarli essi non sono i fatali e predestinati rappresentanti del male due punti non sono nati per essere fascisti nessuno quando sono diventati adolescenti e sono stati in grado di scegliere secondo chissà quali ragioni e necessità ha posto loro razzisticamente il marchio di fascisti è un'atroce forma di disperazione e nevrosi che spinge un giovane a una simile scelta e forse sarebbe bastata una sola piccola diversa esperienza nella sua vita un solo semplice incontro perché il suo destino fosse diverso questo è l'articolo del 8 luglio 74 appunto su Paese Sera allora è interessante noi naturalmente adesso andiamo verso il fondo della conversazione però credo che l'unica posizione per capire quale fosse l'impatto sui lettori dell'epoca del discorso di Pasolini sulla mutazione antropologica è non farsi fuorviare solo dalla lettura nostalgica cioè il rimpianto per un'Italia che non c'è più ma individuare dentro la contraddizione di Pasolini questa contraddizione feroce spietata comunque una critica probabilmente non volevo usare l'aggettivo profetica perché mi sembra un aggettivo sempre un po' stonato ma in qualche modo sì un poco preveggente sui rischi dell'omologazione transclassista interclassista ad un'omologazione che ha a che fare proprio con i dettami del mercato allora volevo aggiungere due soli elementi e uno a che fare col papà di Giuliano Ferrara perché dico perché è curioso che lui si opponesse a Ferrara che comunque scriveva dalle colonne di un giornale comunista che rinfacciava a Pasolini l'antiprogressismo e gli diceva voi in realtà difendete attaccandomi una sorta una sorta di edonismo più o meno consapevole che diventa un modello unico una sorta di ottimismo edonista che per Pasolini era il fumo negli occhi ogni tanto leggendo il foglio lo dico ovviamente come parere personale che è stato fondato un giornale intelligentissimo e anche innovativo da Giuliano Ferrara ormai quasi 30 anni fa leggendo il foglio ho l'impressione che sia proprio l'ausorgan diciamo di un certo edonismo ottimista è paradossale ma è così nei momenti più drammatici il foglio diciamo scarta dicendo non dobbiamo pensare l'altro giorno in un breve scambio che ho avuto una firma del foglio mi ha detto ma io sai io sono un notista famoso ma noto per chi legge il foglio io sono un anti ambientalista un anti catastrofista una sorta di antropocentrico essere umano che rivendica il suo antropocentrismo in modo anche un po' come dire appunto giocoso ludico e spensierato non voglio dare giudizia anche se naturalmente mi sento un po' distante da questo tipo di petizioni però capite che è paradossale da un certo punto di vista trovarsi a rileggere una intemerata di Pasolini contro il papà di Ferrara e poi trovare che Ferrara in qualche modo incarna o il suo giornale ha incarnato anche questo aspetto ma questo è soltanto naturalmente un inciso invece volevo più seriamente concretamente finire su questo questi due verbi che Pasolini usa e che ci ricollegano a quell'intervista produrre e consumare c'è un passaggio di un pezzo che si chiama il vero fascismo e quindi il vero antifascismo uscì col titolo che abbiamo visto prima il potere senza volto ecco c'è un passaggio in cui vengono messi in contrapposizione questi due verbi all'infinito produrre e consumare con quello che per Pasolini dovrebbe essere invece la tenuta di una società la crescita di una società in altri termini è come se fossimo costretti mi fermo su questo perché se voi provate a leggerlo incarnato in un film potenziale che lui stava già su cui stava già lavorando allora capite o capiamo che cosa significa Salò dentro quel film un potere senza volto che rifiuta il vecchio sanfedismo il vecchio clericalismo che abbandona la chiesa che trasforma contadini e sottoproletari in piccoli borghesi e alla smania per così dire cosmica di attuare fino in fondo lo sviluppo produrre e consumare per chi non ha visto Salò ci sono delle scene prima di arrivare alla coprofagia quindi a questo nutrirsi dei propri stessi scarti che danno la sensazione che sia punitivo e in qualche modo però avvolto da un piacere sadomasochistico questo essere costretti a consumare una delle prime cose che vediamo in Salò è una tavola una lunga tavola imbandita e Pasolini insiste moltissimo fissando le gengive le dentature questa sorta di masticazione continua mangiare mangiare consumare costringere qualcuno a consumare e a un certo punto si passa da una cena normale in cui il disgusto viene già in quelle scene vi assicuro se non ve lo ricordate se non l'avete mai visto nel fatto dell'insistenza su questo fatto puro della masticazione prima ancora della coprofagia perché in qualche misura già prefigura il fatto che siamo ridotti sono ridotti questi personaggi che incarnano il potere senza volto a consumare e basta esistono nel loro puro consumare l'identikit di questo volto ancora bianco scrive sul Corriere della Sera del 24 giugno 74 del nuovo potere attribuisce vagamente ad esso dei tratti moderni dovuti alla tolleranza e a una ideologia edonistica perfettamente autosufficiente ma anche qua sembra proprio l'abstract diremmo oggi del film a una ideologia edonistica perfettamente autosufficiente la Repubblica di Salò un sistema chiuso autosufficiente edonistico nel suo edonismo diventa sadomasochistico e in qualche modo autosabotante distruttivo apparentemente compiaciuto del suo piacere ed un piacere che diventa etico estetico degradato naturalmente sessuomane e in qualche misura larvatamente sessuofobico insomma tutto questo sta in Salò quindi lui lo scrive in forma di articolo dicendo che è perfettamente autosufficiente ma anche dai tratti feroci e sostanzialmente repressivi la tolleranza infatti è falsa la componente dominante di Salò è una componente orgiastica quindi il massimo della libertà sessuale ma quella componente orgiastica apparentemente edonistica in realtà è falsa è una finta tolleranza perché nessun uomo ha mai dovuto essere tanto normale e conformista come il consumatore e quanto all'edonismo esso nasconde evidentemente una decisione a preordinare tutto con una spietatezza che la storia non ha mai conosciuto cioè quando ho riletto recentemente questo pezzo ho pensato ecco che cos'è quel film con cui Pasolini voleva porre l'estrema provocazione tenete conto che lui muore quando il film sta per uscire la sua morte è legata almeno tangenzialmente anche da qualcosa che riguarda Salò perché furono sottratte quelle che in gergo si chiamavano le pizze le pellicole cinematografiche di Salò una delle cose che avevano più angosciato Pasolini negli ultimi suoi giorni era chi avesse sottratto queste pellicole del film qualcuno ricostruendo in modo assolutamente tormentato cosa è successo quell'ultima notte disse che Pasolini aveva un appuntamento con qualcuno che gli aveva promesso di restituirgli queste pellicole rubate cosa naturalmente mai acclarata mai verificata e tuttavia c'entra comunque con questa angoscia di Pasolini rispetto a quest'ultimo film film che quando fu poi proiettato provocò in molti spettatori un tale senso di ripulsa che molti abbandonarono la sala prima della fine della proiezione ma bisogna ricordarsi che se non fosse morto Pasolini aveva detto che quello era il primo tassello della trilogia della morte quindi non riesco a immaginare che cosa potevano essere il tassello 2 e il tassello 3 chiaramente in qualche modo incarnando questo tipo di stanze ci sta dicendo quest'ultima frase che voglio leggervi dunque questo nuovo potere non ancora rappresentato da nessuno è dovuto a una mutazione della classe dominante è in realtà una forma totale di fascismo ma questo potere è anche omologato culturalmente l'Italia si tratta dunque di una omologazione repressiva pur se ottenuta attraverso l'imposizione dell'edonismo della joie de vivre la strategia della tensione è una spia anche se sostanzialmente anacronistica di tutto questo connette addirittura il terrorismo terrorismo nero e rosso a questa omologazione culturale a questa omologazione di natura repressiva qua è fondamentale pur se ottenuta attraverso l'imposizione dell'edonismo perché se tu imponi l'edonismo a una comunità che manifesta diciamo così questa joie de vivre in modo orgiastico tanto per dirvi e per essere esplicito è una continua visione di corpi nudi Salò corpi nudi in atto di coito continuo continuo e appunto orgiastico ripetuto ma nel momento in cui quello è un condizionamento di natura repressiva effettivamente manifesta il suo lato truce il suo lato sceno ributtante respingente non è più gioia di vivere vera è una gioia di vivere falsa infatti il film per quanto sia così respingente ha una coerenza estremista perché ti fa penare per quei corpi che godono godono ma in realtà stanno soffrendo perché sono costretti a godere guardate che è letterale cioè è l'incarnazione letterale di una metafora di un sistema diciamo di pensiero che è quello che Pasolini porta avanti così ossessivamente in questi articoli diventa corporale viscerale in quelle scene tu dici ma fa orrore questo film non si può non si può vedere ecco non si può vedere è come se questo non si può vedere fosse esattamente quello che deve produrre come effetto il film la sua impossibile visione perché rivela quello che abbiamo sotto gli occhi e non vediamo per l'appunto è come se fosse una rivelazione per l'appunto allora stiamo ovviamente alle battute finali no? dobbiamo chiudere questo ragionamento e volevo farlo dicendo che però al fondo di tutto questo c'è anche una sorta di disperazione c'è una tragedia per certi versi e se è tragico il consumismo lo dice anche a Moravia in uno degli ultimi articoli dice tu non capisci che io sento la tragedia del consumismo perché la sento nel mio corpo sento di essere io stesso costretto dai sistemi di produzione a fare ciò che non sono sicuro di voler fare a un certo punto dice capirai a Moravia semplifico ovviamente che tu stesso stai convivendo con un sistema stai convivendo stai abitando un sistema che in qualche misura ti impedisce di essere libero allora tu dici ma quindi qual è la soluzione una sorta di retroazione di retroattività un ripristino dell'Italia come era un ripristino impossibile dell'Italia come era ecco lo scandalo ancora una volta della contraddizione l'antiprogressismo non può essere sostenuto in modo marxista e tuttavia Pasolini conosceva il mondo aveva capito il mondo attraverso appunto le lenti di Marx come fai a essere nello stesso tempo marxista e antimarxista come fai a essere marxista ideologicamente diciamo così e antimarxista visceralmente questo probabilmente si chiarisce ed è davvero l'ultimo segmento di questa conversazione solo due o tre minuti per dire che c'è un tema e anzi una parola che uno non si aspetterebbe da Pasolini Pasolini è uno scrittore molto più e anche un cineasta molto più sentimentale ed emotivo di quello che sembra noi lo riconduciamo a una dimensione intellettuale qualche volta anche intellettualistica e tuttavia perché è molto teorico io penso ma non ho il tempo di adesso di diffondermi su questo che uno dei libri meno letti di Pasolini anche perché è un libro postumo si chiama Petrolio è uno dei libri più impressionanti della storia letteraria recente è uscito in Italia nel 91 ed è uscito soltanto dopo un lungo lavoro filologico di ricomposizione perché tanto aveva lasciato in qualche misura incompiuto Salò quanto aveva lasciato incompiuto Petrolio Petrolio è un libro Walter City nell'ultima edizione per Garzanti addirittura inserisce nella pista sulla morte di Pasolini anche Petrolio lo dico per inciso perché fino a qualche tempo fa Walter City non ci credeva che Pasolini lui stesso lo dice è molto affascinante questa prefazione Walter City è uno dei massimi esperti su Pasolini quindi alla sua autorità mappello dice a un certo punto io non ci ho mai creduto troppo alla pista politica dell'omicidio Pasolini ma devo riconoscere rientrando in Petrolio che è un avanzamento anche filologico che è plausibile che ciò che si diceva di Petrolio prima che Petrolio uscisse e cioè che Pasolini possedeva che avrebbe usato dei documenti che riguardavano la morte del presidente dell'Enrico Mattei in circostanze anche quelle abbastanza misteriose cioè non tanto il fatto che li possedesse quei documenti ma il fatto che si credesse che li possedeva potrebbe aver determinato qualcosa che c'entra con l'agguato in cui Pasolini è morto questo per dire che era diventato una specie di libro monstrum che aleggiava in qualche modo nel paesaggio editoriale ma la sua effettiva incarnazione anche in quel caso pagina dopo pagina capitolo dopo capitolo è una prodigiosa è un prodigioso esperimento di impurità romanzesca perché funziona come un faldone che assorbe tutti i linguaggi e tutti gli stili è affascinantissimo per uno scrittore petrolio perché è un libro votato al fallimento evidentemente votato al fallimento che però assume tutti i linguaggi e tutte le strategie stilistiche per diventare in qualche modo l'estensione romanzesca del contropotere di un potere che si oppone talmente tanto agli schemi ai conformismi da creare un personaggio androgino che vive una sessualità che non ha nessun genere codificato è androgino in qualche modo è una metamorfosi androgina che in qualche modo si oppone a tutti gli schematismi anche del genere non nel senso della rivendicazione però appunto sociopolitica di diritto civile no non in quel senso in una dimensione quasi di preistorica o di sovratemporalità quindi sarebbe un discorso lunghissimo e non ho il tempo di farlo dico solo che questo ultimo Pasolini è un Pasolini interessantissimo proprio per il grado di estrema provocazione a cui arriva e anche di estrema disperazione ecco perché e qua davvero chiudiamo c'è un punto in cui la parola chiave diventa il cuore nessuno si aspetterebbe da Pasolini che possa tirare in ballo in una discussione politica il cuore e tuttavia devo dire che a un certo momento capisci che quello che fondamentalmente gli sta a cuore appunto è una capacità di sentire una capacità di sentire che è pre-politica o post-politica o non lo so non direi mai a politica evidentemente perché Pasolini stesso a richiamare la necessità della politica e della lettura politica di ogni cosa ma quando è tenuto a un certo punto a scrivere un articolo perché sta sempre in questa sorta di sequenza di pezzi sull'omologazione sul fascismo nuovo sulla impossibile differenza di classe adesso trovo la citazione su questa chiudiamo tira in ballo appunto il cuore è un articolo siamo negli ultimi mesi della sua vita primo marzo 1975 il titolo redazionale è molto esplicito non aver paura di avere un cuore riparte dall'aborto cerca di chiarire che la società italiana di oggi non è più clerico fascista ma è consumistica e permissiva una specie di disco rotto detto da un certo punto di vista perché ripete a ogni articolo così è l'ossessione e quindi a un certo punto dice questo bisogna capire Calvino non lo capisce lo dice pure qua quando eravamo adolescenti c'era il fascismo poi c'è stata la democrazia cristiana che era la continuazione letterale del fascismo adesso c'è un'altra cosa che è un fascismo dei consumi il problema è vasto comporta tutto un modo di concepire il proprio modo di essere anche intellettuali e finisce così e questa è l'ultima citazione come polli d'allevamento gli italiani sempre dovete scusate faccio l'ultimo inciso pensare che state aprendo il giornale quella mattina il giornale che dovrebbe rassicurarvi anche nella vostra appartenenza a una classe la nostra appartenenza a una classe così latamente borghese e invece Pasolini ti dice questo come polli d'allevamento gli italiani hanno assorbito la nuova ideologia irreligiosa e antisentimentale del potere antisentimentale tale è la forza di attrazione e di convinzione della nuova qualità di vita che il potere promette tale è insieme la forza degli strumenti di comunicazione specie la televisione di cui il potere dispone come polli d'allevamento gli italiani hanno indi accettato la nuova sacralità non nominata della merce e del suo consumo in questo contesto i nostri vecchi argomenti di laici illuministi razionalisti non sono solo spuntati e inutili ma anzi fanno il gioco del potere dire che la vita non è sacra e che il sentimento è stupido anche a proposito delle discussioni sull'aborto è fare un immenso favore ai produttori e del resto è ciò che si dice far piovere sul bagnato i nuovi italiani non sanno che farsene della sacralità sono tutti pragmaticamente se non ancora nella coscienza modernissimi e quanto a sentimento tendono rapidamente a liberarsene che cosa infatti conclude che rende attuabili in concreto nei gesti nelle esecuzioni le stragi politiche dopo che sono state concepite è terribilmente ovvio la mancanza del senso della sacralità della vita degli altri è la fine di ogni sentimento nella propria che cosa è che rende attuabili le atroci imprese di quel fenomeno che è la nuova criminalità è ancora terribilmente ovvio il considerare la vita degli altri un nulla e il proprio cuore nient'altro che un muscolo e infine vorrei dire che se della maggioranza silenziosa dovesse rinascere una forma di fascismo arcaico esso potrebbe rinascere solo dalla scandalosa scelta che tale maggioranza silenziosa farebbe e in realtà già fa tra la sacralità della vita e i sentimenti da una parte e dall'altra il patrimonio e la proprietà privata in favore di questo secondo corno del dilemma al contrario di Calvino io dunque penso che senza venire meno alla nostra tradizione mentale umanistica razionalistica non bisogna aver più paura come giustamente un tempo di non screditare abbastanza il sacro o di avere un cuore ecco una delle ultime parole prima dell'articolo delle lucciole e un altro paio di articoli fondamentali con cui Pasolini chiude la sua parabola di scrittore di intellettuale ecco l'ultima parola bisogna ragionarci ed è in attesa è la parola cuore grazie